uno degli esami che dovrebbe essere prescritto diciamo dopo i 40 anni è senza dubbio un esame con caratteristiche preventive davvero importanti è un esame non invasivo esame che non necessita di una particolare preparazione ed è un esame davvero importante dicevo perché ci permette di valutare lo stato delle arterie pur non andando all'interno delle arterie questo esame si chiama ecodoppler tsa cosiddetto un acronimo che vuol dire significa dei tronchi sovraordici è un esame molto semplice ripeto non invasivo che non dà nessun tipo di dolore e che permette di vedere con la posizione di una sonda nel lato del collo destro e sinistro la qualità del flusso che attraversa le arterie carotidi e vertebrali insieme a questo è possibile vedere se sempre le carotidi hanno una alterazione strutturale anatomica interna caratterizzata dalla formazione di placche ateromasiche come sapete bene le placche ateromasiche sono l'espressione dell'ateroscletosi e se sono presenti a livello carotideo verosimilmente potrebbero essere presenti anche in altri distretti arteriosi tipicamente le coronarie questo esame ripeto non invasivo viene fatto senza alcuna preparazione viene fatto con il paziente supino e viene valutato appunto l'ispessimento medio intimale si chiama ossia quanto sta diventando spessa la parete dell'arteria in questo caso la carotide e quindi quanto questa può diventare pericolosa ricordo a tutti per chi non abbia mai visto un video dove parlo dell'aterosclerosi che l'aterosclerosi la peggiore malattia del secolo si evolve attraverso un iniziale ispessimento del bordo dello spessore dell'arteria per poi evolversi verso la formazione della cosiddetta placca ateromasica quando queste placche ateromasiche si formano all'interno delle carotidi possono arrivare sicuramente non a ostruire completamente l'arteria perché voi pensate il lume di un'arteria carotide è abbastanza ampio quasi un centimetro per cui davvero è impossibile occludere completamente l'arteria ma possono arrivare a parzialmente occludere l'arteria e generare un alterato flusso quindi cerebrale a tal fine quindi la presenza di placche ateromasiche devono essere valutate attraverso uno spessore una misurazione ben precisa e tipicamente quando una placca ostruisce in maniera maggiore superiore al 60 per cento una delle due arterie carotidi e c'è l'indicazione per l'intervento chirurgico questo tipo di intervento è risolutivo in quanto rimuove completamente la placca liberando alle carotidi mantenendo la loro pervietà eliminando quindi la placca ateromasica un'altra cosa importante di questo esame ripeto banale non invasivo banale nel senso che nella sua operazione nel suo modo di essere espletato un'altra importante un altro importante vantaggio di questo esame è che ci permette di vedere non solo se ci sono placche a livello crotideo ma se sono anche pericolose cioè se la placca è cosiddetta vulnerabile vi ricordo che ci sono delle placche fibro calcifiche e placche che non sono fibro calcifiche le quali sono più molle tipicamente le quali possono andare incontro a fissurazione a rottura qual è infatti la peggiore conseguenza che una placca carotidea può dare sostanzialmente il distacco di un micro di un frammento che noi chiamiamo embolo che può andare in circolo e procurare un'occlusione di una qualsiasi arteria cerebrale il classico ictus e non a caso infatti quando al pronto soccorso si presentano persone con un disturbo neurologico ascrivibile all'ictus cerebrale o all'anticamera dell'ictus cerebrale che è l'attacco ischemico transitorio la prima cosa che si valuta è la perività delle carotidi detto ciò una volta valutato la presenza di placche ateromasiche sicuramente bisogna correre ripari ci sono varie scuole di pensiero nell'ambito terapeutico chi dà un anti aggregante chi preferisce non darlo chi cura invece i fattori di rischio cardiovascolare e certo è da chiedersi se si forma una placca che ostruisce ad esempio al 30 per cento della perività delle carotidi bisogna chiedersi come mai si è arrivato a tanto e quindi sicuramente i fattori di rischio cardiovascolari sono importantissimi per il contenimento della placca ateromasica ad oggi dal punto di vista terapeutico non conosciamo un farmaco che possa far regredire la presenza di placca ateromasica a livello carotideo in qualche modo i farmaci ipolipemizzanti possono limitarne l'evoluzione addirittura alcuni nutraceutici hanno dimostrato una parziale condizionamento della placca ateromasica ma sicuramente sono difficili da eliminare assolutamente impossibile ma tanto meno da ricevere una volta verificata la presenza di placca ateromasica a livello carotideo è opportuno fare un controllo una volta all'anno almeno è sempre auspicabile che sia fatto dallo stesso operatore e con lo stesso strumento quindi la presenza di placca ateromasica è un buon indicatore un buon marker di rischio cardiovascolare e soprattutto ci aiuta a capire dove possiamo agire per prevenire eventuali complicanze di queste placca ateromasica e soprattutto delle malattie cardiovascolari grazie a tutti